Signorizio 2019, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi, sono con Domenico Ciacera, responsabile marketing di Unica Subito Casa. Allora ciao Domenico, un commento a caldo sull'evento. Commento a caldo, dopo due anni è diventato un must, non si può mancare a un evento che tratteggia cosa sta succedendo sul mercato e magari anche quali sono le possibili ispirazioni per il futuro. A noi piace essere qui con te, a noi piace essere qui con tutti i colleghi per portare la nostra esperienza, il nostro modo di stare sul mercato e dire come noi vogliamo contribuire a migliorare l'esperienza dei clienti. Allora oggi tu hai parlato di relazione aumentata, dopo la realtà aumentata, c'è la relazione aumentata. In un minuto ci racconti cosa intendi? Allora, diciamo sono partito da un dato, c'è un portale che si chiama Will Robot Stake My Job e se tu metti real estate agent su questo portale viene che gli agenti immobiliari hanno l'86% di probabilità di estinguersi a seguito della tecnologia. Noi non la pensiamo così. Noi investiamo pesantemente in tecnologia per creare un ecosistema che faccia diventare l'agente un superagente. Perché? Perché questo superagente deve essere in grado di gestire la relazione prima della compravendita, durante la compravendita e dopo la compravendita dando tutti i consigli necessari per viversi la casa in tutta la semplicità e le possibilità che offre. Questo è il modo con cui noi ci vogliamo posizione sul mercato. Tecnologia per generare nuove opportunità per la gente e creare le relazioni aumentate. Messaggio chiarissimo. Allora ci vediamo anche nel 2020. In mancante. Grazie, Domenico. A presto. Ciao.